Si avvicina la festa della mamma, ricorrenza civile diffusa in tutto il mondo per celebrare appunto la figura della mamma, dell'influenza sociale delle madri e della maternità e come di consuetudine tempo di regali per festeggiare la ricorrenza. La pianta che si vende per eccellenza per la festa della mamma è la zalea, di diversi colori, comunque è la zalea come pianta, come simbolo della festa della mamma. Come fiore sicuramente per tradizione è la rosa rossa, però ogni anno le politiche aziendali ci portano a vendere qualche altra cosuccia. Quest'anno noi per esempio stiamo offrendo benissimo delle calle colorate, delle belle begonie, delle roselline francesi e degli anturium. Si vendono abbastanza bene le idroculture e come fiori stiamo proponendo i fiori mazzolini, i fiori di campo, tutti colorati, proprio perché per differenziarci da qualche altro collega, ma anche come la politica aziendale nostra è questa dal punto di vista così. Anche per mantenerci sui costi, proprio perché andiamo incontro sempre più alla crisi galoppante, allora cerchiamo di mantenerci sui costi. Il costo massimo che proponiamo come pianta, noi siamo intorno ai 10 euro una pianta del genere, quindi per far sì che la gente riesce ad acquistare bene il nostro prodotto. Il resto cerchiamo sempre di venire incontro a quelle che sono le esigenze della clientela. Insomma ce n'è per tutti i gusti, ci si può sbizzarrire in una moltitudine di regali per celebrare una ricorrenza che in Italia è stata introdotta negli anni 50 e che viene festeggiata la seconda domenica di maggio. Adesso come saprete tutti, l'11 maggio è la festa della mamma e noi abbiamo tantissimi articoli. Oltre a articoli già preimposti che arrivano quindi con la scritta della mamma, noi realizziamo tantissime composizioni. Quindi per esempio questa è una mongolfiera fatta con i fiori finti, col palloncino, che a differenza magari di composizioni floreali che col tempo appassiscono, questa rimane invece con via tantissimo tempo. Quindi è un ricordo che la mamma può avere anche dopo. Oltre a questo comunque ci sono i mazzolini di fiori, vasetti, noi facciamo di tutto.